Il Siracusa non si ferma più, 7-1 al Comiso. Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere solo di gioia per un Siracusa ritrovato e con un attacco che si conferma prolifico e invece rimane dentro il tarlo che i tifosi siracusani siano stati defraudonati in maniera vergognosa della visione di questa goleada. Speravamo che finalmente la tragica media del De Simone, almeno per l'ultima partita dell'anno, potesse avere un finale positivo e invece no, si è giocato ancora a porte chiuse, senza nessuno che si sia ancora preso la briga di svelare l'arcano mistero che è tuttora ostia la riapertura al pubblico degli spalti dello stadio di Piazza Quella. Questa fantomatica commissione di vigilanza, novella a spectre attivata dal Sindaco e di conseguenza dipendente dal Comune di cui non si sa quando e se si riunirà mai, intanto però sta continuando a creare enormi danni economici ad immagine sia alla società che alla città. È un po' come se il proprietario di un immobile lo desse in affitto ma col divieto di andarci ad abitare. Che senso ha? Ma a Siracusa tutto ha un senso, a Siracusa tutto è possibile perfino che un Consiglio Comunale preoccupato di ben altre situazioni scabrose remi contro la squadra della propria città ponendogli bastoni tra le ruote quando invece altrove fanno carte false di aiutarle. Il tutto ovviamente nel perdurante e colpevole silenzio generale. Spazio alla cronaca, partenza incerta da Siracusa che finiva con concedere qualcosa agli avversari tant'è vero che sull'ennesima incertezza difensiva arrivava all'undicesimo il gol del vantaggio del Comiso con Mascara. Ma come abbiamo già avuto modo di descrivere Siracusa di oggi non è neanche lontano parente di quello di qualche settimana fa. Gli azzurri iniziavano a cingere da sedio l'area avversaria e chiudendo il Comiso nella propria metà campo con manovre avvolgenti e ficcanti. Così era a gioco forza che arrivasse il gol del pareggio al ventiquattresimo con l'arinato Giannaula. Siracusa insisteva e trovava il vantaggio ancora con Giannaula che sembrava trasformato rispetto al timido attaccante di poche settimane fa. Finiva così il primo tempo con un Siracusa più guardingo che difendeva bene il vantaggio ottenuto. Nel secondo tempo Mr. Schifo sostituiva Scillano apparso leggermente affaticato ma la musica in campo non cambiava e la squadra da Redusea nel giro dei pochi minuti assestava il colpo del K.O. con Miraglia che prima al quarantanovesimo e subito dopo al cinquantaquattresimo realizzava la sua prima doppietta in maglia azzurra. Il Comiso ovviamente non dava più segni di reazione e il Siracusa ne approfittava per concedere altra gloria ai propri attaccanti e per rimpinguare ancora di più il bottino di Redi. Così al sessantiquattresimo a suo rigore arrivava il gol di quarto che andava a fissare il risultato temporaneamente sul 6-1. Il Siracusa ormai divertiva e si divertiva e continuando ad attaccare senza mai correre rischi giuggeva anche il gol del 7-1 all'ottantasettesimo ancora con Giannaula che come richiede la tradizione anglosassone avendo realizzato la sua personale tripletta si portava a casa come trofeo e il pallone. Finiva 7-1 una partita a senso unico dominata interamente da Siracusa con un Comiso mai pervenuto se non nei minuti iniziali. Adesso squadra e tecnico potranno godersi il meritato Natale a casa con le proprie famiglie mentre la società avrà il suo bel da fare per sbloccare la vicenda della riapertura del Desimone entro il 5 gennaio prossimo data in cui gli azzurri si troveranno di nuovo a giocare in casa e per quel pomeriggio al Siracusa occorrerà la spinta dei propri tifosi piaccia o non piaccia a qualcuno.